Un giro di spaccio di droga articolato su più province è stato stroncato dai carabinieri di Piacenza. 31 le persone coinvolte colpite da arresti, perquisizioni e altri provvedimenti decisi dal Tribunale. L'accusa è di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti con accertamenti di oltre 1.500 episodi di spaccio. 9 degli indagati sono italiani, tra cui 8 piacentini e 22 stranieri. L'indagine è partita dai militari di Rivergaro e si è allargata non solo alla Valtrebbia, ma anche alle province di Lodi, Pavia, Savona e Sondrio. Nel corso dell'operazione, 11 soggetti sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, 7 agli arresti domiciliari, 2 all'obbligo di dimora nel comune di residenza e 3 all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le investigazioni hanno permesso di individuare alcuni gruppi di spacciatori italiani e stranieri, marocchini, egiziani, tunisini e senegalesi, che si rifornivano di considerevoli quantità di stupefacente dall'Interland milanese, per poi cederlo ad assuntori della provincia di Piacenza. In particolare, durante l'indagine sono stati effettuati 12 arresti in flagranza e 3 denunce in stato di libertà, con il sequestro di 2,5 grammi di hashish, 32 grammi di cocaina e 100 di metadone. L'operazione, avviata nel settembre 2019 dalla stazione Carabinieri di Rivergaro, è stata denominata Bicycle, in quanto il primo spacciatore monitorato si muoveva in bicicletta per incontrare gli acquirenti.